Bella a tutti ragazzi, sembra che la Sony si sia per comprare Bethesda e tutti i suoi giochi e quindi diventeranno esclusive PS5 Ma come cazzo vogliamo si andò in cielo? È una situazione critica ragazzi, non lo so Tanto poi il panico fondamentalmente su tutto questo Alla fine la domanda maggiore è ma quando uscirà del Death Scrolls 6? Avrà degli effetti negativi tutto ciò? Se succede scoppia la terza guerra mondiale, su sto canale vedete questo video È scoppiata la terza guerra mondiale Abbiamo perso la Sardegna I cloni di Albano hanno conquistato il Salento E questo avrà effetti sull'uscita di Death Scrolls 6? Perché fondamentalmente è questo soltanto che ci interessa Almeno da qui al 2022 Comunque ragazzi a parte il panico In teoria a quanto pare questa qua è una notizia uscita su Reddit Che fondamentalmente non è attendibile al 100% Quindi non c'è nulla di certo Anche perché è già capitato che È capitato sia che qualche insider abbia dato notizie vere Sia che qualche insider abbia dato notizie false molto spesso Quindi non è che c'è una certezza Però non si sa mai Comunque andiamo a leggere di preciso cosa ha scritto questo insider Che ha diffuso il panico nel web Perché varie testate giornalistiche italiane L'hanno riportato questa notizia Molti di voi mi hanno scritto su Twitch e su Instagram Un po' nel panico Quindi andiamo a vedere cosa ha scritto di preciso Praticamente ci dice che Sony acquisirà Zenimax e tutte le società che sono collegate a Zenimax Quindi sapete che Bethesda è stata acquistata da Zenimax da anni Quindi Bethesda e ID Software se viene acquistata da Zenimax passeranno completamente a Sony Quindi tutto diventerà un'esclusiva Sony Tutti i giochi usciranno in teoria Tutto ciò inizierà a gennaio Alla fine di gennaio inizio febbraio Quindi a breve In più aggiunge che Starfield è stato cancellato da tre mesi Perché concentrare tutte le forze su Dead Scrolls 6 E che uscirà nel 2022 In più aggiunge Fallout Remakes next year Quindi Fallout Remake lo famo il prossimo anno Ce lo dice così in tranquillità Comunque andiamo a vedere bene nel dettaglio tutto Perché tutto questo molto probabilmente è un fake La Zenimax verrà acquisita da Sony Di conseguenza uno dei rischi più grandi Tutti i giochi di Bethesda e anche di software Quindi Doom Saranno acquisiti e diventeranno assolutamente delle esclusive soltanto Sony Una cosa assolutamente tragica Soprattutto per chi come me li ha sempre giocati da PC Ogni gioco comunque giocato su un PC da gaming risulta con una qualità migliore Però i giochi Bethesda rega ancora di più Cioè su PS4 sono ottimizzati male Fondamentalmente è quello Non dimentichiamo che a breve PlayStation Now sbarcherà su PC Quindi probabilmente gira anche una voce Che ci sarà un launcher Sony PlayStation su PC Quindi potremo giocare le esclusive Sony Le esclusive PlayStation anche su PC Quindi potrebbe essere una geniale scelta di marketing Più per avere esclusive migliori Potrebbe essere una scelta di marketing Per portare più giocatori ad iscriversi al PlayStation Now Per poter accedere a queste esclusive Come sappiamo la Sony nella console war ha sempre usato la tecnica delle esclusive Infatti probabilmente contro Stadia e Xbox Scarlett In questa nuova generazione di console sarà questa la tecnica che adotterà E per come partita Stadia a livello di esclusive E già PlayStation sta un bel passo avanti Comunque si è scatenato il panico nel web ma non c'è nulla di certo Perché comunque è un commento lasciato da un insider di Zenimax Ma non è detto che lavori veramente per Zenimax Potrebbe essere una trollata Andiamo a vedere Sony acquisirà Zenimax e tutte le compagnie collegate Tra cui Bethesda e di software e altre Però fondamentalmente i contenuti Le IP che diventeranno esclusive Sony Che mi mandano più nel panico Sono Doom, The Elder Scrolls e Fallout Che diventeranno esclusive Sony Aggiungendo che Starfield è addirittura stato cancellato E The Elder Scrolls 6 uscirà nel 2022 E che sembra che a breve potrebbe uscire un remake di Fallout 1 Anche questa notizia era già trapelata C'era anche già una notizia che Starfield stava avendo dei problemi Comunque vedremo tutto più avanti Andiamo per ordine L'altra notizia riguarda Tess 6 Che in teoria dovrebbe essere annunciato a breve Che da quanto pare dovrebbe uscire nel 2022 Ci tengo a ricordarvelo per tutto il video Anche se divento ripetitivo ragazzi Queste notizie non sono assolutamente attendibili Potrebbero essere confermate Ma in teoria sono notizie che in rete sono state rilasciate Da una persona che lavora all'interno di Bethesda O di Zenimax o di Sony Non si è ben capito Comunque andiamo avanti La seconda notizia fondamentalmente Quella che parla che Starfield è già stato cancellato E che ci avvertiranno fra poco Che hanno abbandonato questo progetto Già questa in teoria vi posso dire Se non sono stato ingannato io Ma ho parlato direttamente con Insider Bethesda Quindi ho parlato con una persona che ho la certezza Che lavori per Bethesda E mi ha assicurato che Starfield È già funzionante e giocabile L'unica cosa negativa è che la stessa persona Che mi ha detto Comunque io ci ho giocato a Fallout 76 in questi mesi Non ho mai avuto problemi Ma come? Ma come è possibile? Comunque vi do questa notizia io Che non è certa al 100% Ma è sicuramente molto più attendibile Di quella di Reddit Cioè io mi fido molto di questa persona Che mi ha detto questa cosa Quindi se voi fidate di me Starfield non si sa ancora la data Ma uscirà Quindi stiamo a vedere Ma questa potrebbe essere la prova Che tutto è finto L'altra notizia riguarda Un fantomatico remake di Fallout 1 Questa voce diciamo che gira già da un paio d'anni Infatti fondamentalmente potrebbe essere una conferma Che quindi potrebbe essere vero Ora con quest'ultima notizia di questo Insider Ma fondamentalmente potrebbe semplicemente essere che Ha preso spunto da vecchie voci di corridoio O altri vecchie trollate E ci sta semplicemente marciando sopra Però fondamentalmente sarebbe una gran figata Cioè nel senso Credo che è così tanto tempo che gira questa voce Che non dico che ci sia sicuramente qualcosa di fondato Ma fondamentalmente c'è stato così tanto hype Nel mondo videoludico All'idea di rigiocare un capolavoro come Fallout 1 Ma con il motore grafico L'ultimo motore grafico Il creation engine Lo stesso di Skyrim Invece del Fallout engine Quindi sarebbe un gran cambiamento Passeremo dalla modalità isometrica Insomma che ricordavate C'è stato il cambiamento con la Bethesda in Fallout 3 E da allora siamo sempre rimasti nel 3D Io adoravo anche comunque la visione isometrica Girava questa voce C'era anche visto su Amazon Un countdown di un gioco Bethesda Messo in vendita senza nome Per poche ore tempo fa Ne avevamo parlato in un video precedente Che poteva essere un Fallout Si era anche vociferato di un Fallout 1 all'epoca Non c'è niente di certo Però non lo so Forse sarebbe l'unica buona notizia Fra tutte queste qui Un capolavoro come storia Per chi non l'ha giocato È assolutamente obbligatorio giocarlo E se c'è la possibilità di giocarlo in 3D adesso E dare la possibilità a tanti ragazzi Che all'epoca erano ancora in stato larvale Che non hanno potuto giocarlo È un'ottima notizia E spero sia vera Perché sarei contento che possiate giocarlo E portare tanti gameplay Anch'io su questo gioco Che è un capolavoro Perché adesso portare il primo Fallout Su Twitch e su Youtube Sarebbe un po' un suicidio a livello di marketing Anche se lo abbiamo fatto Infatti non è che si sa che Non è che seguo troppo la moda io sui giochi Se non giocavo a Fortnite Infatti abbiamo rigiocato Fallout 1 su Twitch È già capitato E in prova almeno non c'è stato un grande seguito Più di tutto sarebbe bello adesso Un remake sarebbe un'ottima possibilità Per portare un sacco di contenuti Comunque molti di voi mi hanno chiesto Cosa ne pensavo su queste notizie Se secondo me erano delle fake news Regà non c'ho la palla di vetro Per darvi la certezza al 100% Che siano tutte notizie farse Forse su quella di Starfield Anche perché io ho parlato con quel tipo Ora che ci penso un mese fa Mentre già su questa notizia Si parla di tre mesi Che i lavori sono stati abbandonati Da ben tre mesi Quindi il tempo non coincide proprio Quindi spero siano tutte delle fake news Soprattutto per la storia delle esclusive Anche se devo dire Un remake di Fallout 1 Non ci starebbe troppo male Non c'entra nulla ragazzi Ma sto giocando da poco su Twitch A Divini D2 Che poi oddio Non c'entra nulla neanche troppo Perché è stato annunciato Baldur's Gate 3 Che è un capolavoro Baldur's Gate 2 Baldur's Gate 1 Era un capolavoro di Interplay Che sono gli stessi creatori di Fallout Quindi un collegamento c'è Sto giocando a questo capolavoro Aspettando Baldur's Gate 3 Su Twitch Quindi vi ricordo Se vi va di iscrivervi E di seguire il link Che trovate in descrizione E nei top commenti Perché stiamo riprovando E in Divini D2 Dai capolavori di Come cazzo si chiama Dai capolavori di Larian Studio Dai capolavori Scusate ragazzi Ho fatto un casino con i nomi Comunque Larian Studios Ha preso le redini di Baldur's Gate 3 Che era un capolavoro di Interplay E Bioware Quindi Finalmente sono riuscito a dirlo bene Quindi non vedo l'ora Che esca questo cacchio di capolavoro Perché ci giocavo da bambino Era uno dei giochi Che ci stavo più in fissa A Baldur's Gate 1 E Baldur's Gate 2 Quindi non vedo l'ora Che esca il 3 Intanto che aspetto Ci stiamo giocando Divini D2 Su Twitch Quindi Vi consiglio di seguirmi Su Twitch Ragazzi Anche perché Beh è successa Questa cosa strana La storia di inizio video Che ho fatto lo sketch Della terza guerra mondiale Ragazzi Io non mi aspettavo Che poi Mentre lo giravo Praticamente la sera È successo questo casino In Iran Con l'attacco di Trump Infatti mi dispiace anche Di averci fatto una battuta Ma vi giuro Che l'avevo già registrato Quando l'ho fatto io Non c'era Non c'avevo assolutamente idea Che poche ore dopo C'era davvero un rischio Della terza guerra mondiale Quindi vabbè Io comunque Tanto lo sapete C'ho il bunker pronto Quindi Sto a posto Da qua i prossimi 15 anni Comunque ragazzi Se ci saranno novità Su questi argomenti Appena ci saranno fonti ufficiali Che rilasceranno qualcosa Sia o per negare Che è tutta una mezzogna O se confermano qualcosa Io vi avvertirò In più se ci saranno Notizie sulle date Di Deldeskroll Su questo fantomatico Fallout 1 Oppure A questo punto Anche su Baldus Gate 3 Che neanche di quello Si sa la data Vi avvertirò qui su Youtube Quindi iscrivetevi al canale Attivate le notifiche Non vi scordate Che è importante E anche vi ricordo Di iscrivervi su Twitch Penso di avervi detto tutto Ragazzi E vi ringrazio per l'attenzione E ci vediamo alla prossima Ciao belli Però è ingestibile Cioè guardate il menu Che cos'è Ma Che cos'è Grazie per l'attenzione